bentornati in questo nuovo video tutorial dedicato alla gcad alcuni di voi ci hanno chiesto come poter andare a personalizzare quelle che sono le caratteristiche del menu in particolar modo vediamo che con la versione 2024 il menu principale è definita adesso con la modalità ribbon quindi ogni scheda è suddivisa in sottocategorie ed è ordinata e ci permette quindi di navigare in quelle che sono le varie funzioni prevalentemente io innanzitutto la possibilità nella scheda ribbon di andare tasto destro del mouse e fare riduce icona bar delle multifunzioni in questo modo io posso recuperare un po di spazio nell'area di lavoro quando io vado a cliccare sulla scheda di ogni menu ribbon questo si ricompare se voglio andare a di nuovo a bloccare quello che il menu basta semplicemente togliere la spunta su riduce icona ad esempio posso portare la barra multifunzione sotto della barra sotto la multifunzione quindi andare a spostare questa riga di menu dove sono presenti quelle che sono nuovo apri salva salva con nuove stampa al di sotto della barra multifunzione queste sono delle modalità di scelta per quanto riguarda il ribbon menu ovviamente c'è la possibilità anche di convertire il menu classico e dal menu classico tasto destro andare soprattutto a spegnere quelle che sono i menu che non vengono utilizzate quindi per ridurre quello che lo spazio e sistemare meglio quelle che sono i vari menu contestuali però tasto destro personalizza io posso accedere nell'area di personalizzazione del mio menu e posso andare a creare una lista di comandi un menu personalizzato quindi fare il nuovo e andare quindi a creare il mio menu personalizzato in questo caso una volta che ho cliccato sul menu personalizzato mi compare qui vedete c'è un menu libero dove non c'è nessuna icona vado sulla riga dei comandi e posso andare ad aggiungere quelle che sono una serie di funzionalità che posso inserire all'interno del mio menu semplicemente tenendo premuto la funzione trascinandola all'interno del menu contestuale quindi in questo modo io posso andare a personalizzare quello che il mio menu se non voglio più utilizzare questo meno posso tranquillamente fare elimina e mi va a eliminare il menu personalizzato nella sezione opzioni posso andare la possibilità di migliorare quella che è l'icone più grandi di visualizzazione mostrare sempre menu completi questo però più che quanto riguarda quello che è il discorso del menu classico se io voglio tornare di nuovo al mio menu contestuale vado su menu ribbon vado su finestra ritorno quello che è alla nuova gestione del menu ribbon per quanto riguarda la gestione poi delle finestre delle proprietà va bene qui lateralmente io ho già la mia finestra delle proprietà dove posso selezionare quelle che sono dei parametri di gestione del menu in particolar modo qui andare a visualizzare quello che l'angolo puntature polare quindi quando io utilizzo la funzione polare su on mi dà la possibilità di scegliere quello che è l'angolo di visualizzazione polare vedete qui adesso impostato a ogni 90 gradi però volendo io posso scegliere anche una modalità a ogni singolo grado poi a seconda del tipologia di di intervento che io voglio andare a monitorare per quanto riguarda poi il discorso legato alla gestione delle finestre io posso spostare la finestra di proprietà vedete si attivano delle funzionalità delle frecce di impostazione che mi permette di scegliere dove poter selezionare e applicare quello che la mia finestra delle proprietà quindi mi dà la possibilità anche di avere questo tipologia di personalizzazione ovviamente i comandi possono essere anche richiamati direttamente dalla riga di comando e quindi mi dà la possibilità di ad esempio linea l o linea direttamente dal da schermo scrivendolo e quindi mi dà la possibilità di andare a richiamare quello che è il comando quindi ci sono una serie di gestioni che mi danno la possibilità di poter migliorare velocizzare quello che è l'utilità appunto del della del programma